Salve a tutti ragazzi, qui è Manu Killer Italia che vi parla Pitching Games e siamo in un video dove vi dirò degli aggiornamenti sul server Prima di tutto ecco il server, Bucket, poi Minecraft e soprattutto il grande Tangle Ecco, ebbene si ragazzi, Tangle, lo vi trovate in descrizione, è un programma molto utile per giocare online ai server craccati online Allora, prima di tutto scaricate Tangle, un altro scaricato Tangle, vabbè, seguite tutto e vi registrate Io mi tengo registrato come Manu Killer Italia, il mio P è 7.61.116.80 Un altro scaricato vi darà, vabbè, la pagina iniziale che sarà così Andate in ricerca e iscrivete Minecraft, semplicemente Minecraft e vi compariranno tutti questi server Voi mettete chi è più online, in questo caso 110 persone, 255 online, cliccate qui Una volta cliccato vi comparirà questo, aspetterete un po' che vi crea la pagina E scriverete il vostro IP T.61.116.80 Poi vabbè, scrivete Join e fate un po' di pubblicità E entriamo nel nostro server Come potete vedere ho messo un nuovo plugin Ovvero il login Allora voi li registrate Ora faccio un piccolo taglio perché non si può vedere la password ragazzi Ok ragazzi, ho fatto il taglio GCSFally login, vi darà E niente, ho creato la mob arena E le novità sono queste Andiamo su, scrivete ma, join Mindblood, in questo caso il nome della mob arena Ed ecco qui ragazzi, scegliamoci il tank E avviamo qui Come potete vedere, kills wave ovviamente round 0 E manual 2000 è accanto al 0, vuol dire che sono uccisioni Beh, è stata ammazza questa piccola bag Wave 1 E niente, la mob arena ovviamente dal wave 1 è facile Poi ci saranno i round difficili con dei round potenziati Ovvero molto difficili E molto impegnativi Ora io non muoro perché appunto non ho la demina Scusate, è rotto E per uscire fate ma le ave Ma lì E uscirete appunto da Dall'arena Ecco qui l'arena Con scritto grande mob arena E niente Vabbè questo è lo spawn come già ho fatto dire E niente, volevo aggiornare appunto qui Quindi scaricate Tangle Mettete, vabbè Lo scaricate normalmente E scrivete appunto questo op 7.61.116.80 Una volta scaricato Tangle Andate su Minecraft E inserite appunto quelli che ho già detto Ve lo mettere in descrizione Ve lo mettere tutto in descrizione Bella Ci possiamo salutare E alla prossima Ovviamente ora il creeper non c'è come nello scorso web E nello scorso Nello scorso Server Quindi Senza il motherfuck Bella a tutti E non c'è come nello scorso web